ecco lo stile domani ragazzi rieccoci tutti quanti carichi pimpanti a zin nel canale buona domenica buongiorno a tutti quanti ci siamo svegliati un po' arrabbiati un po' amareggiati per questo pareggio che detto come va detto ce lo siamo andati a cercare da soli perché fare un fallo così inutile a centrocampo ovviamente col piede a martello e tutto non aveva senso in una partita che comunque stavamo gestendo tranquilli senza neanche rischiare più di tanto contro l'Empoli sappiamo cosa succede col VAR quando noi abbiamo degli episodi controversi veniamo puniti al primo errore i due pesi due misure non ci sono tant'è che ci sono anche degli episodi come Berardi e altri lampanti di giocatori che non hanno preso il rosso per episodi simili o anche peggiori e quindi ragazzi è andata come è andata però una cosa che è successa ieri e dobbiamo assolutamente dirlo Giuntoli si è imbufalito contro Allegri ecco perché il titolo sbrocca senza esagerare senza usare paroloni però non ha accettato il fatto che si stava lottando per lo scudetto potevi andare a P4 era proprio una questione matematica cioè di gestione no? e non hai saputo mettere la formazione migliore a disposizione e giunto lì stesso era conoscenza dei giocatori che stavano bene fisicamente ok? tant'è che Allegri ha dovuto giustificare Milik dicendo che stava bene, l'avevo visto bene in settimana il problema è che non basta dire questo cioè ci sono anche delle altre valutazioni da fare cioè Hildiz è più forte di Milik in questo momento, ti può dare di più di lui? Sì quindi Giuntoli è una persona in più, un valore aggiunto in questo spogliatoio che vede e provvede e quindi avendo cambiato 7 undicesimi della formazione rispetto a Lecce gli ha dato fastidio parleremo proprio di questo però prima un bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella mi raccomando per ricevere tutte le notifiche e rimanere sempre aggiornati su ogni uscita del video un abbraccio e un saluto a tutti gli iscritti e tutti gli abbonati per essere sempre e costantemente su questo canale e supportarlo allora come vi stavo dicendo ovviamente oltre al fatto che ci sono stati degli errori di formazione e delle scelte sbagliate di giocatori anche considerando la partita contro l'Inter del 4 febbraio perché un conto è non mettere chiesa che non sta benissimo e sapete che è molto bloccato a livello di testa quando non ha le gambe a pronte e Rabiò che aveva ancora un problema importante al polpaccio ed era giusto e doveroso tenerlo ai box ma ha aggiunto, è andato su tutte le furie per quale motivo? perché lui era convinto che Rugani fosse il giocatore prescelto per condurre questa difesa senza sbavature mentre invece Alleghi ha scelto addirittura non Danilo che era diffidato e ci poteva anche stare, non rischiarlo ma Sandro, giocatore che Giuntoli voleva già vendere in estate, non è riuscito a trovare la quadratura del cerchio e se l'è ritrovato costantemente nella rosa, quindi questo giocatore è un giocatore che andrà via a giugno quindi non avrebbe senso secondo me continuare a farlo giocare e Giuntoli ne ha parlato con Alleghi purtroppo ieri c'è stata questa presa di posizione dell'allenatore che era convinto di vincere questa partita che era veramente fondamentale perché tutta la pressione sarebbe data sull'Inter però così non è successo e non solo questo, Giuntoli ha indispettito anche dal punto di vista del centrocampo perché lui continua a spingere per Nicolai Usi e Nonge ed è anche per quello il motivo per cui quei due ragazzi sono a fare il polmone del centrocampo perché Giuntoli ne ha parlato bene in conferenza stampa se vi ricordate ed era uno dei motivi per cui il nostro direttore toscano non aveva spinto l'acceleratore su altri centrocampisti come Samaric, Kupmeiners calando la mano, Sudakov eccetera 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 e quindi insomma questo ha fatto molto arrabbiare e poi anche Ildiz perché come sapete Giuntoli avete visto come l'ha apprezzato come l'ha abbracciato, come l'ha fatto sentire parte della famiglia dopo le grandi prestazioni in Coppa Italia e in campionato e quindi è chiaro che c'è stato uno scontro a muso duro un po' come vi dicevo dopo Sassuolo e Juventus dopo alcuni pareggi sciarbi in casa col Bologna eccetera Giuntoli fa così, è uno che dice le cose in faccia e quindi essendo una persona trasparente non può nascondersi dietro un dito e non le ha mandate a dire ad Allegri quindi questo è il dato di fatto poi è chiaro che non è che stanno litigando e domani c'è l'esonore eccetera no, semplicemente è stato un confronto molto acceso tra i due anche perché, continuo a dirlo, Giuntoli così come Calvo ecco perché sono passati tutti dall'assalato anche con Mann non sono contenti delle dichiarazioni post conferenza nel caso in cui si sbagli formazione e si sbaglia una partita perché Allegri ha detto che è contento del punto è soddisfatto perché poteva anche perdere non si può sempre vincere e si sapevano le insidie di questa partita contro l'Empoli e soprattutto ha detto Milik e il suo rosso hanno condizionato la partita e l'hanno indirizzata allora, di queste dichiarazioni sono d'accordo soltanto con questa cioè che Milik ha macchiato una partita che potrebbe essere condotta in porto siccome anche vincendo la 2-3-0 perché l'Empoli, a parte i quei 5 tiri in porta forse è un pelo pericoloso beh, il gol di Baldanzi e un altro quindi Szczesny fondamentalmente ha preso anche un buon voto perché non è che poteva evitare il gol però, ripeto ragazzi è un aggravante avere avuto quell'espulsione lì perché comunque tu hai messo un giocatore in campo che non era funzionale a giocare contro questa squadra qua una squadra che è venuta all'Arembaggio, all'Allianz con il campo dell'allenatore dopo un grande risultato contro il Monza sapevi dei rischi e tu non puoi cambiare formazione perché devi dare continuità alla costruzione della solidità del gruppo e quindi tu vai a rischiare veramente di incrinare uno spogliatoio cambiando 4 giocatori su 11 ecco perché Giuntoli si è fatto sentire e come vi dicevo queste dichiarazioni di facciata continuando a coprire il proprio lavoro nonostante sia sbagliato sono controproducenti per l'ambiente perché un allenatore dovrebbe semplicemente dire mi prendo le mie colpe ho sbagliato a fare certe dichiarazioni oppure ho provato a mettere certi giocatori in una partita così delicata ho sottovalutato l'avversario non pensavo che l'Empoli venisse così organizzato così all'Arembaggio e abbiamo peccato ecco tu potresti anche dire questo e secondo me i tifosi capirebbero i tifosi accetterebbero anche un pareggio perché dopo tante vittorie tanti risultati utili consecutivi copitali del campionato è comunque possibile incappare in degli errori ovviamente ci si augura sempre che sia contro una grande diciamo un pareggio così in casa in questo modo piuttosto che contro una piccola penultima in classifica che farà fatica a salvarsi con questo punto comunque aggancia il treno delle terzultime e comunque ha qualche possibilità in più di salvarsi però capite ragazzi che non ci sono scusanti non dico che dovremmo per forza vincere 10 contro 11 perché su questo non possiamo dirlo il calcio è imponderabile è pieno di imprevisti ed è chiaro che ogni partita fa storia a sé nel momento in cui parliamo in cui bisogna calarsi nei panni dei giocatori come reagiscono a un certo episodio però si può dire una cosa cioè è stato sbagliato l'inizio prima della partita è l'errore e quindi io ripeto cosa mi aspettavo da lì? solamente un mia colpa cioè non scaricare solo la colpa sui giocatori e sull'episodio singolo ma dire ho sbagliato a fare certe scelte dovevo cambiare dovevo continuare sulla falsa riga di Sassuolo e di Lecce ditemi la vostra anche voi mi raccomando un bel pollicione alto alto iscrivetevi al canale e attivate la campanella a presto come sempre grazie di esserci un abbraccio forte da me e da Nila come sempre vi ricordo prima di concludere scrivetemi in privato anche su Stivello Magno Facebook aggiudetemi anche lì come amico vi farò avere nel gruppo in amicizia tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube a presto come sempre forza vive fino alla fine speriamo oggi in uno sgambetto della Viola contro l'Inter e vedremo come ci troveremo in classifica a presto